ospite del corriere salentino oggi nicola strambelli 34 anni esterno d'attacco ma anche fantasista del casarano calcio ciao nicola ciao buonasera a tutti ciao allora lui ha giocato tre partite in serie a 20 partite in serie b tantissime partite in serie c per un totale di oltre 300 presenze e oltre 60 gol segnati come sei arrivato a casarano nicola sono arrivato che la società mia mi ha voluto fortemente mi ha dato con l'impressione di che poi non è più un'impressione ma è la realtà di una società molto seria fatta di persone per bene che quindi poi la mia scelta è stata facilissima perché quando poi li ho conosciuti di persona qual è stata la differenza allora classifica del campionato di serie d ci sono sette squadre in cinque punti tra queste ovviamente c'è anche il casarano come lo leggi questo inizio di campionato un campionato dove davvero non si vede una squadra favorita sì non c'è una favorita non c'è quella che ammazzerà il campionato perché questo campionato da quello che vedo è fatto di più squadre che puntano a vincere puntano al vertice quindi ogni domenica c'è c'è una sorpresa che quindi ogni domenica una battaglia sul campo è dura però fino alla fine poi dobbiamo sempre dimostrare chi siamo il tuo casarano ha conquistato quattro vittorie sei pareggi e ha subito una sola sconfitta ha il quarto attacco del campionato con 18 reti segnate però questi quattro pareggi consecutivi in casa con nocerina fragolese barletta e pudelano hanno un po deluso la piazza no cos'è che vi è mancato strambelli è mancato un po di cinismo sicuramente perché potevamo fare più gol poi avremmo portato sicuramente la vittoria a casa ci manca anche un po di fortuna però quando dobbiamo andarcelo a trovare l'episodio al nostro favore che poi ci porti alla vittoria se un po di fortuna sicuramente è mancata forse nella fase di costruzione a centrocampo c'è stata qualche laguna almeno questo è giudizio da anche dei colleghi giornalisti cosa cosa ne pensi tu da giocatore esperto io penso che a centrocampo abbiamo i giocatori più forti della categoria quindi se qualche prestazione è stata di sotto è stato perché la squadra ha fatto delle prestazioni al di sotto quindi abbiamo il quarto miglior attacco e dobbiamo essere il primo abbiamo una non delle migliori difese quindi bisogna migliorare per forza quindi non è il problema del centrocampo della difesa dell'attacco adesso ci sarà questa trasferta a Molfetta tu sei un ex hai giocato un anno nel Molfetta che rischi ci sono come valuti la posizione anche il valore del Molfetta quest'anno il Molfetta sicuramente ha fatto una squadra importante anche loro per per stare tra le prime in classifica quindi ora si ritrovano in un'altra posizione quindi ora si stanno riprendendo però noi dobbiamo riprendere la nostra strada senza guardare con chi giochiamo la domenica perché anche domenica scorsa abbiamo avuto la dimostrazione che anche l'ultima in classifica ti può mettere in difficoltà certo a proposito delle squadre che stanno nel gruppone di testa fanno un po stupire i numeri del Nardò che è l'unica squadra che non ha mai subito una sconfitta ed è un attacco che ha segnato poco 11 reti ma ne ha subiti solo tre nettamente la migliore difesa e i cugini del Nardò stanno sorprendendo se stessi forse prima di tutto no? No io conosco mister Randy quindi è un allenatore vincente che ha vinto tanto e che vorrebbe vincere quindi a me non fa nessuna sorpresa perché so come lavora so come lavora sui dettagli e quindi a me non mi sorprende per niente e so che il Nardò starà lì sopra perché è un allenatore molto valido Nicola Stambelli l'anno scorso avete vinto, tu hai vinto a Cerignola un campionato straordinario con una rimonta di 11 punti qualcosa di veramente straordinario e qual è stata la chiave che vi ha consentito di fare quel miracolo? La chiave è stata il gruppo perché nei momenti di difficoltà ci siamo riuniti, abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi è uscito fuori l'orgoglio e la voglia di dimostrare di essere migliori Per concludere una domanda che riguarda la tua carriera, allora Bari tra le tue squadre, non le cito tutte Bari, Andrea, Taranto, Monopoli, Matera, Regina, Lecco, Molfetta, Arezzo, Cerignola Il ricordo più bello? L'esordio è sicuramente in Serie A, la partita a Roma, all'Olimpico è quello il ricordo più bello C'era Totti contro, ho avuto anche la maglia C'era Totti che ti ha dato la maglia Senti, è il gol più bello dei 60 circa che hai fatto? Il più bello in Lecce Matera 0-3 0-3 Senti Nicola, tu sei un fantasista e sei un esterno Sei esperto e nel Casarano sei sicuramente il giocatore più famoso Però sei quello che dà l'esempio, ho visto che ti impegni tantissimo, ci tieni tantissimo alla maglia E non tiri indietro la gamba, giochi con un impegno costante fino al 95esimo Non a tutti i giocatori della tua età succede Complimenti Grazie, io penso a me stesso, penso sempre a dare l'esempio al più giovane Perché se il più grande dà l'esempio, il giovane poi viene trascinato Ma insieme a me ci sono tanti altri che hanno questo carattere qui E quindi il prima possibile usciamo, ne sono sicuro che usciremo da questa situazione Certo Sei quindi un combattente di carattere, è una questione soprattutto di carattere? Carattere poi a me non piace perdere Quindi anche quando gioco contro mio figlio voglio vincere Quindi quello che mi porta ad essere così è a voler sempre il massimo Bene, allora ringraziamo Nicola Strambelli Qui siamo vicino ad una porta E ci auguriamo che il primo gol con la maglia del Casarano Magari venga proprio domenica prossima Ciao Nicola Ciao, grazie a tutti